allora salve a tutti qui siamo arrivati finalmente all'ultimo video di questa serie dedicata alla persecuzione della storia della persecuzione del paganesimo in europa e nel mediterraneo l'ultimo lo scorso video avevo parlato del mondo slavo quindi tutto ciò che riguarda appunto la futura russia russia ucraina in parte anche la polonia in parte anche i balcani come avevo detto l'europa dell'est un mondo enorme anche se purtroppo ci è rimasto davvero poco perché soprattutto per le parti per le parti più antiche perché la scrittura lì è arrivata è arrivata molto tardi quindi nonostante siano ci siano tantissimi popoli di cui discutere diciamo le notizie di cui le notizie che abbiamo sono pochissime già l'altra volta avevo accennato al mondo baltico però mi sono limitato solamente a diciamo soprattutto al mondo della della russ dei primi dei primi regni slavi volevo dedicare un video a parte appunto a ai vari stati che stanno sul mar baltico che sono che sono quelli che sono stati oggetto delle invasioni soprattutto di quella come avevo spiegato l'altra volta che era la host siedlung ossia l'insediamento a est da parte del di popolazioni germanofone di etnia tedesca ovviamente ben sostenuta dai vari principi tedeschi e dalla chiesa poiché queste queste popolazioni balti erano slave e va detto che il paganesimo baltico è forse il paganesimo davvero più longevo che ci sia mai stato in europa e durato fino a diciamo è durato a livello politico ufficiale fino almeno al rinascimento alle porte del rinascimento che è tantissimo per centi per certi punti di vista potremmo dire che forse in alcuni luoghi dei paesi baltici forse davvero l'unico l'unica forma di religione pre cristiana che è davvero sopravvissuta fino al giorno d'oggi mi verrebbe quasi da dire poi anche lì è difficile difficile dire che cosa è cos'è fare religione nel senso quant'è consapevole quant'è folklore e quant'è religione quanto consideri una cosa tradizione popolare oppure religione organizzata e auto consapevole però laddove nel resto d'europa diciamo appunto ciò che era rimasto del ciò che è rimasto del delle spiritualità pre cristiane comunque si è tutto trasformato si è dovuto tutto trasformare in folklore in sostanza per sopravvivere all'interno di una società cristiana e quindi essere accettato come come una sorta di superstizione in sostanza superstizione basta anche se addirittura è interessante questo forse ne ho parlato nel nell'introduzione alla religione però il concetto di superstizione all'inizio come era nato tra i romani all'inizio era era in realtà dato dai romani da dai pagani romani a religioni come a religioni nuove e strane diciamo come quelle del cristianesimo all'inizio religioni superstizio religione un po malate come come intendevano i romani diciamo delle regioni fatte male diciamo così un po dove la gente le prendeva in modo un pochino troppo fanatico poi col tempo superstizio è rimasto come termine per per il il culto appunto sempre un culto spirituale un po sbagliato diciamo un po una credo simile a creduloneria insomma delle usanze che non hanno né una base religiosa né una base scientifica quindi si mischia la magia si mischia tanti vari tipi di credenze che che hanno appunto una matrice popolare appunto superstiziosa e che quindi non sono molto degni di essere presi in considerazione ad ogni modo detto questo laddove appunto in tutta l'europa e nel mediterraneo le antiche religioni sono diventate folklore forse davvero fino almeno 1900 1900 nei in alcuni campagni dei paesi baltici alcuni villaggi ancora praticavano in modo diciamo abbastanza consapevole una religione altra dal cristianesimo però questo poi lo diranno i folcloristi e c'è degli storici della religione questa diciamo è una cosa che penso io quindi ci occupiamo ora appunto del mondo baltico l'altra volta appunto vi avevo sottolineato come per la storia tedesca questa è una delle è uno dei temi fondamentali perché la la spinta verso est è stata un un fattore per identitario per la nascita della futura germania per la graduale nascita identitaria tedesca perché la drang nachosten che sarebbe in un certo senso la conquista dell'est andrà a costituire un'ideologia che poi si ritroverà anche nel fino 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 ad arrivare appunto ai primi del 1900 fino alla alla concezione della gross deutschland cioè della grande germania che avevano che usavano ancora i nazisti che non l'avevano inventata loro era una concezione che veniva dalla storia geopolitica da appunto vari politologi precedenti 1800 1700 che avevano che pensavano che la germania dovesse avere per questioni storiche dovesse avere una certa forma un po me che ne so l'italia che vuole riconquistare che ha qualche diritto divino di avere corsica dalmazia istra o istra insomma i nazionalismi ognuno ha dei propri disegni che secondo loro si basano sulla storia e per quanto riguarda la germania appunto la concezione di questa grande germania si basa in gran parte anche su questa conquista dell'est quindi luoghi che per secoli e secoli sono stati oggetto di una costante migrazione di popoli tedeschi questo proprio per germanizzare cosa che recuperano recupereranno anche i nazisti infatti nel loro grande nel loro grande plan di conquista dell'est europa anzi la conquista dell'est europa era per il nazionalsocialismo una il progetto forse il progetto più fondamentale per dare quello spazio vitale alla germania di cui aveva bisogno per avere quelle risorse fondamentali per non essere dipendente da nessun altro stato del mondo quindi la conquista del grande est per i tedeschi era appunto una una questione di vita o di morte ed era il progetto era un progetto basato anche sulla loro storia infatti vediamo che le zone della polonia fino arrivare al baltico sono state voleva fin da fin dal medioevo sono state appunto oggetto di un processo di germanificazione con una costante conquista un po' in parte migrazione di famiglie tedesche in quei luoghi quindi tutti tutte quelle zone che nel novecento ancora saranno contestate dalla germania saranno reclamate dalla germania come la la slezia le zone della prussia ecco la prussia ad esempio quindi tutto il tutto il nord della polonia fino arrivare a koenigsberg e la parte della bohemia ecco tutte queste zone vengono conquistate in questi secoli e ora ora vedremo come e poi saranno nel momento in cui ovviamente era il regno di polonia lo stato polacco moderno e gli altri stati le se le riprenderanno le detoglieranno alla germania la germania le le reclamerà a sua volta proprio su queste basi qui andiamo a vedere quindi cosa è successo quindi riprendiamo appunto il discorso dal sostanzialmente dalla zona del brandenburgo che la la zona di berlino in sostanza quindi siamo in germania del nord est una subito una piccola parentesi ovviamente abbiamo adesso i tedeschi i principi tedeschi hanno conquistato la zona del brandenburgo l'avevamo detto l'altra volta hanno sottomesso già delle popolazioni slave che vivevano lì adesso però c'è da continuare siamo più o meno nell'età delle crociate quindi tra il mille mille cento mille duecento quindi siamo in pieno medioevo e uno dei popoli questo interessante uno dei popoli slavi che darà il nome alla polonia ossia i polani furono un popolo che scelse precocemente la cristianizzazione addirittura prima del mille e questo giocò un ruolo centrale nella penetrazione futura degli eserciti crociati quindi questi polani saranno i primissimi alleati diciamo la testa di ponte come succede come abbiamo visto succedere sempre quando andatevi a rivedere video sulla scandinavia sulla germania eccetera eccetera è sempre così diciamo c'è sempre un tuo alleato lì nel territorio nemico e in questo in questo discorso l'alleanza è soprattutto su base religiosa quindi questi polani scelsero di farsi cristiani cristiani e aiutarono i futuri crociati a invadere le terre della pomerania la pomerania nella zona della polonia nord nord occidentale attaccata alla germania è giusto ricordare che sin da età antica così come in epoca vikinga tutta la zona costiera del baltico fu una regione commercialmente strategica per il controllo dei traffici tra scandinavia europa orientale il mar nero quindi ricordare datevi che comunque l'interesse economico è assolutamente presente perché la fin dall'antichità basta basti pensare all'ambra all'ambra della lituania insomma quando si studia archeologia già prima molto insomma ai tempi degli etruschi anche prima è famoso il commercio appunto con i paesi baltici e tra i paesi baltici e mediterranei per questa ambra e anche per queste ragioni le elite polacche tedesche erano interessate a inglobare quelle terre nei propri feudi quindi guerre e battaglie si susseguirono fino al 200 e all'inizio di questo secolo furono fondati a scopo missionario dal vescovo alberto di libonia ecco questo è importante i fratres milice cristi di libonia conosciuti come i fratelli di spada della libonia ora qui se non avete visto per chi non ha visto lo scorso video devo devo fare un appunto siamo ai tempi delle crociate e appunto nello scorso video avevo detto che così come è stato per i principi spagnoli che dovevano fare la reconquista quindi scacciare dalla dalla penisola iberica i musulmani anche per i principi tedeschi o in generale i cristiani cavalieri cristiani del nord ci fu una dispensazione cioè il papa concesse loro tramite tramite le solite bolle papali la dispensazione da dall'andare a fare le crociate in palestina in terra santa perché chi aveva in un certo senso da fare la crociata in terra propria accanto a sé ad esempio contro i musulmani oppure contro i pagani poteva stare lì quindi il papa avrebbe comunque considerato quello sempre come una guerra santa e avrebbe dato ovviamente anche a loro l'indulgenza da tutti i peccati eccetera eccetera quello che si dà normalmente per fare per ammazzare gli infedeli e i pagani quindi ai tempi delle crociate c'erano anche le famose non solo quelle di palestina ma anche le famose crociate del nord e le crociate del nord erano proprio queste fatte contro i popoli slavi della polonia fino ai popoli baltici di lituania estonia lettonia appunto tra i primi ordini cavallereschi ci furono proprio questi fratelli di spada della livonia questo ordine fu creato per proteggere il clero e i missionari ma di lì a poco divenne un vero e proprio esercito permanente del vescovo quindi come succede sempre diciamo la scusa iniziale semplicemente fare da scorta ai vari missionari che vanno nel frattempo mentre ci sono guerre eccetera eccetera eserciti passano si si danno tanto da fare per convertire la gente e portarli alla alla vera fede e c'era bisogno di una scorta allora fondiamo questi cavalieri però col tempo questi cavalieri ovviamente diventano tanti e diventano una sorta di de facto esercito personale del vescovo e nel giro di pochi anni il problema è che questa band of brothers inizia a fare sempre più i propri i propri interessi economici come succede come è successo questi bravi cristiani tante volte ci hanno mostrato che nella realtà poi fanno fanno tutto il contrario quello che dicono poi vedete anche cosa è successo cosa succederà poi ai templari anche loro avevano erano riusciti ad acquisire un potere economico talmente grande che addirittura la chiesa di roma con la collaborazione del re di francia li fece spazzare via tutti quanti li fece ammazzare tutti per recuperare ovviamente le ricchezze dei templari anche questi fratelli di spada facevano quindi loro interessi economici e iniziavano più ad ascoltare le direttive della chiesa e ovviamente questa la chiesa potete immaginare non andava molto bene quindi iniziavano a siglare accordi in modo autonomo saccheggiavano e conquistavano terre un po' come gli pareva e a quel punto la chiesa di roma decise di disfarsi in qualche modo di questi indisciplinati e l'occasione fu data nel 1236 nella battaglia di shaulen nella quale i fratelli di spada furono annientati da un esercito di cavalieri pagani composto da delle popolazioni semigalli e samogiti che erano dei popoli di lì quindi questi fratelli di spada pigliano le schioppate vere dai cavalieri pagani quindi diciamo muoiono tantissimi insomma è una disfatta e quindi perdono gran parte del loro potere di trattazione allora la chiesa grazie paradossalmente ai pagani riesce a riprendersi a riprendere il controllo di quest'ordine quindi l'anno seguente la chiesa riprende il controllo e decise che questo ordine sarebbe stato incorporato nell'ordine molto più famoso che alcuni di voi sicuramente conosceranno qualcuno lo starà già dicendo nella sua testa ossia il famosissimo ordine dei cavalieri teutonici e quest'ultimo infatti sarà il protagonista di questa anche di questo video e di questa crociata del nord chi è questo ordine dei cavalieri teutonici? teutonici nel senso tedeschi in sostanza l'ordine teutonico fu un ordine cavalleresco e religioso fondato in terra santa nell'ospita nell'ospitale tedesco di santa maria di gerusalemme nel 1199 da papa innocenzo terzo quindi siamo comunque in palestina solamente come avrete già notato nel 1199 siamo già molto in là nelle guerre nella storia delle crociate quindi è un ordine venuto abbastanza tardi in confronto agli altri agli ospitalieri templari eccetera eccetera è venuto è nato molto dopo quando quando i regni cristri cristiani iniziavano un pochino a a bacillare quindi nacque tardi gli stati crociati erano già in fase declinante e anche per questo questo ordine fu richiamato viene richiamato abbastanza subito in Europa perché la terra santa di lì a poco anche un po' per Saladino un po' per per tante altre cose sarebbe stata persa quindi l'ordine viene richiamato in Europa per fare un altro lavoro ossia distruggere gli ultimi pagani d'Europa dopo il fallimento nella costruzione di uno stato crociato in Romania addirittura provarono pure a fare uno stato crociato in Romania i teutonici furono chiamati in aiuto dal vescovo cristiano di Oliua chiamato anche l'apostolo della Prussia quindi l'Europa c'è piena di apostoli c'è l'apostolo qui o diciamo ogni tizio che ha che ha voluto cristianizzare questo o quel posto è diventato l'apostolo di quel posto qui abbiamo l'apostolo della Prussia la Prussia più o meno è appunto è la regione che dà sul Baltico un po' a cavallo tra la Polonia e e la Germania furono richiamati siamo nel 1226 e con la bolla d'oro di Rimini concessa dall'imperatore Feridico II la quale dava il via ai cavalieri per dava il via libera ai cavalieri per la conquista del Kulmerland e di altre terre prussiane iniziò l'invasione in accordo con i principi polacchi l'ordine iniziò l'invasione e fortezza dopo fortezza mise al sicuro delle basi in una terra molto grande e pochissimo popolata quindi diciamo la crociata comincia la crociata dell'ordine teutonico comincia e iniziano a conquistare parti sempre più grandi della Polonia del Nord la resistenza dei pagani che non volevano convertirsi fu spezzata la resa di un popolo ovviamente doveva comunque corrispondere anche alla sua conversione su quello non c'era molto da discutere poiché laddove non succedeva si terminava insomma si convincevano con le maniere forti alcuni accettavano di battezzarsi e come ho detto anche in un altro video erano tantissimi in quei casi di persone che diciamo per salvarsi la vita per far contenti gli invasori si convertivano in quel momento ma comunque il giorno dopo tornavano alle loro normalissime usanze ed esistevano anche quei casi di gente coraggiosissima che pur di non abbandonare le proprie idee di difendere la propria cultura le proprie tradizioni sceglievano la morte al posto del battesimo e della conversione quindi restavano fedeli fino alla fine e ad esempio un caso fu quelli difensori della fortezza di Oneida che scelsero il suicidio alla conversione poi oltre alla forza per invogliare la gente a convertirsi si tornava a usare metodi tradizionali passivi di esclusione e segregazione sociale ad esempio nella pace di Cristburgo siglata dopo la prima rivolta prussiana prima rivolta prussiana ossia in cui dei nobili polacchi cristiani preoccupati dall'espansione teutonica si allearono con i pagani quindi ci fu una guerra molto strana dove come vedete nella geopolitica succede di tutto e quindi addirittura dei cavalieri cristiani che si alleano con dei guerrieri pagani per combattere gli invasori tedeschi in sostanza e in questa pace di Cristburgo si sancì appunto il si sancirono i diritti ai quali si poteva accedere se si era cristiano ad esempio uno se sei cristiano hai capacità di ereditare beni immobili e immobili quindi puoi ereditare due ai nobili era concesso di essere cavaliere quindi puoi essere cavaliere solamente se sei cristiano tre la capacità di intentare causa o essere citati in giudizio in tribunali laici o ecclesiastici secondo la legge polacca quindi se non eri cristiano tu non potevi passare per vie legali non potevi afferlarti al diritto ai tribunali eccetera eccetera e totalmente fuori ovviamente quattro gli unici matrimoni legittimi erano quelli svolti in chiesa e la poligamia era proibita quindi ovviamente se ti volevi sposare l'unico matrimonio riconosciuto era quello fatto attraverso la chiesa cinque ovviamente questo neanche a dirlo i rituali e i sacerdozi pagani erano vietati sei i i pruzzi che erano che era quel popolo che dette il nome all'antica prussia i pruzzi furono obbligati a costruire chiese fornite di tutte le necessità poi dovettero pagare la decima e fornire costantemente di grano e sostegno militare i cavalieri teutonici questo faceva parte appunto di questa di di ciò che sanciva questa pace di cristburgo dopo il 1250 l'ordine proseguì la conquista verso est e invase la sambia che oggi più o meno sta nella zona di caliningrado però venne sconfitto più volte quindi l'ordine inizia adesso un po' a prendere cazzotti quella quindi così il pontefice e la chiesa si mobilitarono nuovamente per propagandare la crociata nei paesi cristiani e fornire aiuto all'ordine teutonico perché questi maledetti pagani erano pure forti non ne volevano sapere di arrendersi e quindi prendevano a calci nel sedere i cari teutonici così l'esercito della croce fu rimpolpato di migliaia di truppe provenienti dalla moravia dalla sassonia dalla boemia e a questo punto ovviamente con tutta questa gente per i sambi non ci fu più speranza di vincere chi non si convertiva veniva ucciso o imprigionato alcune cittadine furono totalmente cancellate insieme alla loro popolazione i cavalieri teutonici in onore di re ottocaro secondo di boemia fondarono Königsberg quindi la famosa Königsberg di Immanuel Kant che oggi è diventata parte della Russia e quel pezzettino di Russia che si chiama Kaliningrado che vuol dire montagna del re intanto l'ordine di Livonia che erano quelli di prima gli ex fratelli di spada eccetera eccetera e ora era diventato un ramo dei cavalieri teutonici invadeva le terre dei Samogiti che sarebbe nell'odierna Lituania e il fatto è che prendeva batoste da tutte le parti e questo invogliò i pruzzi a ribellarsi di nuovo dando il via alla grande rivolta prussiana questa questa grande rivolta fu una guerra durata addirittura 14 anni e mise appunto i cavalieri cristiani in grande difficoltà tanto che dovettero affluire migliaia e migliaia di rinforzi da molteplici luoghi dell'Europa centrale per rinnovare la Heidensuk ossia la crociata antipagana in una sentimentalissima predica Papa Urbano IV richiamava tutta la Mitteleuropa alla crociata alla crociata alla guerra santa non senza lacrime abbiamo appreso come quasi mille fratelli siano stati recentemente uccisi dalle mani crudeli di infedevi per la causa della fede che fino ad ora era stata promossa in quei paesi con tanta fatica e fatica senza fine questo qui era il modo del Papa di invogliare insomma la partecipazione di altri cavalieri alla crociata contro questi maldetti pagani che non si volevano arrendere ovviamente quando i crociati tornarono a essere in vantaggio la repressione fu durissima e intere comunità reticenti furono sterminate o deportate e tanti altri fuggirono verso terre lontane terminata la rivolta l'ordine proseguì verso la lituania quindi insomma la grande rivolta prussiana fu definitivamente repressa nel sangue quindi la chiesa chiamava sempre sempre più gente quando aveva bisogno vedeva le cose si mettevano male chiamava truppe pressoché infinite da tutti i paesi cristiani per affluire lì e combattere per la per la vera fede l'ordine iniziò adesso a devastare le terre dei sudoviani dei nadruviani e dei samogizi il pattern rimase il solito insomma se gli sconfitti si arrendono e si fanno battezzare sono ok altrimenti rischiano di essere giustiziati sul posto deportati oppure resi schiavi tutto molto ok si apriva adesso la strada della Livonia che più o meno la Livonia è l'antico nome per definire il territorio dell'odierne Lettonia e Lituania e si doveva via la creazione della cosiddetta terra mariana ossia come furono chiamate le terre tra Lettonia ed Estonia e del Deutsch Oddenstatt cioè lo stato monastico dell'ordine teutonico quindi quest'ordine riuscì finalmente a realizzare il suo sogno ossia fondare un proprio stato la guerra di conquista si protrasse in modo altalenante poiché anche i poteri cristiani ad esempio l'ordine stesso la chiesa il gran ducato di Lituania eccetera risultavano molte volte essere litigavano fra loro ovviamente il gran ducato di Lituania in realtà la cosa questa è una cosa interessantissima in realtà non fu assolutamente uno stato cristiano anzi fu l'entità politica detiene il record diciamo per essere l'entità politica un vero e proprio stato pagano quindi di religione non cristiana politeista ad essere sopravvissuto più in là nel tempo in Europa e questo fu il gran ducato di Lituania ciò fu possibile grazie alla straordinaria abilità politica e diplomatica dei suoi sovrani soprattutto di Gediminas o Gediminas quest'ultimo ritrovatosi a capo di una nazione al cui interno c'erano pagani cristiani latini ortodossi ebrei eccetera eccetera mantenne l'equilibrio di una realtà sfaccettata per tutto il trecento quindi addirittura siamo nel mille trecento e ancora il il politeismo baltico è vivissimo nel gran ducato di Lituania siamo ai tempi di di boccaccio insomma fate voi inizialmente fece molte concessioni alla chiesa di Roma permettendo agli ordini mendicanti francescani e dominicani di predicare nelle sue terre mostrando più volte la volontà di farsi battezzare per acquisire per far acquisire al gran ducato legittimità politica ed economica di fronte all'Europa che conta come al solito l'Europa occidentale dall'altra dall'altra parte quando pagani cristiani ortodossi lo criticarono per questo cioè di andare troppo incontro alla chiesa di Roma egli non ci pensava due volte a tornare sui suoi passi e allentare i rapporti con l'occidente l'ordine teotonico fu il suo più grande nemico di questo Gediminas il gran duca di Lituania l'ordine teotonico appunto era un ordine restio qualunque tipo di compromesso di solito addirittura Gediminas alleato col re di Polonia Ladislao il breve riuscì a saccheggiare la Brandenburgo teutonica quindi addirittura inflisse anche grandi sconfitte ai teutonici fino alla fine della sua vita provvisto di questo reale di questo geniale realismo politico riuscì a tenere in equilibrio il proprio stato concedendo ai cristiani diritti e libertà ma impedendo ai predicatori di offendere l'antica religione e molestare i lituani pagani ad ogni modo anche dopo la sua morte le guerre tra l'ordine teutonico e tutti gli altri ovviamente continuarono gli eredi del gran duca non furono altrettanto abili e i crociati tedeschi tornarono a guadagnare terreno anno dopo anno quindi ancora la pressione del del Deutsch-Ordens-Stadt continuava su questo gran ducato di Polonia perché i teutonici furono fanatici fino all'ultimo diciamolo non ne volevano sapere di stare accanto ancora ad uno stato non cristiano assolutamente no era una questione per loro non ci dormivano una notte insomma se qualcuno non era cristiano soprattutto il vicino di caso i teutonici tornarono diciamo a vincere anche grazie al sostegno del Sacro Romano Impero di altri volontari come al solito provenienti da tutta Europa e dalla costante migrazione quella che ho detto all'inizio cioè la deutsche colonisation la tedeschizzazione delle terre est delle terre baltiche tramite migrazioni migrazioni continua di famiglie tedesche anche l'imperatore Carlo IV di Lussemburgo pose come condizioni della pace la conversione del sovrano lituano però all'inizio senza successo quindi fino all'ultimo questi lituani non ne volevano sapere addirittura i sovrani di solito l'elite è quella che si converte prima ma qui addirittura i sovrani non ne volevano sapere di abbandonare la propria antica religione si dovette aspettare la fine del 300 e dopo molte sconfitte dei lituani per mano dello stato monastico allora si ebbe una svolta epocale il granduca Yogaila dopo una crisi di potere della sua nazione decise infine di offrirsi come erede del trono di polonia accettando così il battesimo ovviamente il trono di polonia era già indubbiamente incontestabilmente cristiano e qui assistiamo a una fusione quindi accettò questo Yogaila accettò il battesimo e come conseguenza la cristianizzazione di tutto il granducato di Lituania potremmo a questo punto dire che il 1387 fu a livello ufficioso l'anno in cui il paganesimo tutto diciamo tutta quella quel gruppo di religioni pre cristiane politeistiche a livello istituzionale si estinsero definitivamente in Europa 1387 siamo alle porte del rinascimento in sostanza in quell'anno Yogaila si convertì e divenne re di Polonia e Lituania con il nome di Ladislao secondo Jagiellone gli aghelloni diverranno famosissimi nella storia della Polonia quindi venendo sempre meno la giustificazione religiosa dei conflitti perché ormai non c'era più uno stato non cristiano ovviamente lo stato dell'ordine teutonico iniziava a perdere proprio il suo senso nella storia e accusò il sovrano lituano così come tutta la sua gente di una finta conversione quindi i teutonici insistevano non riuscivano a insomma non riuscivano a campare bene questi tizi dovevano comunque fare guerra a qualcuno quindi accusarono il sovrano di una finta conversione nonostante l'intervento mediatore della Santa Sede l'odio tra tra i polacco lituani i crociati tedeschi questa ricordate perché l'odio diciamo tra tedeschi e slavi tedeschi polacchi appunto si radica veramente nei secoli aumentò fino alla famosa lettera dell'Ockmeister ossia il gran maestro dell'ordine Ulrich von Jungingen recapitata al re Ladislau la quale fece scoppiare il Gossenstreit ossia la grande lite che detto in altri termini sarebbe la guerra polacco lituana teutonica quindi insomma questo ordine teutonico fino all'ultimo ha fatto solo guerra in sostanza diciamo il suo contributo bel contributo alla storia è stato fare guerre anche quando l'ultimo l'ultimo stato pagano si era convertito lui è riuscito a fare un ulteriore conflitto il conflitto finalmente si risolse con la gigantesca battaglia di Grunwald Grunwald qui abbiamo la storiografia di parte slava polacca che la chiama Grunwald nella storiografia tedesca si chiama la battaglia di Tannenberg la potete trovare anche con questo nome quindi già qui fa capire insomma non sono d'accordo neanche sul nome nel 1410 che vide l'ordine a per diciamo con la soddisfazione di tutti noi penso che ormai siamo arrivati alla fine di questo video finalmente l'ordine figlia la scoppolona finale e finalmente la bozza per il resto della storia di massacrare la la pazienza diciamo così per essere per essere politica di corretta di tutto il resto d'Europa quindi l'ordine nella battaglia di Grunwald viene pesantemente sconfitto e successivamente le truppe polacco-lituanie lo assediano assediano lo Stato nella nella sua capitale a Magie Magieburg ironicamente proprio quando la questione religiosa almeno a livello ufficiale non era più in discussione l'ultimo Stato crociato della storia iniziò a essere anche lui sul tramonto quindi in un certo senso perdi il nemico perdi anche il tuo senso di esistere e quindi in un certo senso i teutoni fino all'ultimo se la sono veramente cercati hanno fatto la guerra dove potevano e all'ultimo hanno pure esagerato hanno preso la loro bella scoppolona dai polacco-lituani e finalmente si sono levati dalla storia e pian piano diciamo lo stato monastico nel 1400 nel pieno rinascimento inizierà a disfarsi da solo come la meve e dopo inizierà la nuova storia insomma della rinascita dei vari stati baltici ora siamo arrivati alla fine fine finalmente e ho cercato di dire tutto il possibile di tutta questa lunga storia fino a quest'ultima parte interessantissima del del gran ducato di Lituania l'ultimo grande stato politeista gentile non so che parola usare pagano è una parola la uso per farmi capire ma è una parola veramente fastidiosa è una parola appunto nata in modo diffamatorio in sostanza proprio dai nemici diciamo da chi odiava appunto tutto ciò tutto ciò che non non rassemblava quella che secondo loro era la vera religione però per farmi capire uso questa parola quindi è più carina la parola gentile secondo me quindi l'ultimo stato gentile d'europa ossia il gran ducato di Lituania una bellissima storia bene spero che vi sia tutto tutto rimasto interessante anche se io sono abbastanza noioso mentre parlo e potrei dire di più di meno non lo so però secondo me basta così poi appunto c'è il mio articolo e ci saranno tantissime altre cose in cui parlare sulle religioni dei nostri antenati sulle religioni politeiste d'europa però per quanto riguarda appunto la la gran parte della persecuzione delle religioni pre cristiane europee questo diciamo è quanto almeno per darvi una base in sostanza e ok spero sia stato interessante allora ci vediamo a un prossimo video dove magari forse avrò intenzione di parlare di del neo del fenomeno che oggi viene chiamato il neo paganesimo però vediamo vediamo intanto vi saluto un prossimo Grazie.